A tre anni dall'esordio di Basilicata Coast to Coast torna al cinema Rocco Papaleo In veste sia di regista e autore di questa nuova commedia e chiaramente anche di attore Insieme a lui, lo vedete alle mie spalle, un cast davvero ricco Riccardo Scamarcio, Barbara Bubulova Una partecipazione straordinaria di Giuliano Loi Odice davvero convincente E uno scenario che ci saprà catturare e una commedia che ci saprà davvero divertire E' un ex prete Don Costantino che viene confinato dalla madre in un vecchio faro dismesso Lontano da occhi indiscreti per evitare che in paese sappiano che si è spretato Mamma Stella infatti ha già un altro scandalo da affrontare Sua figlia Rosa Maria ha lasciato il marito ed è scappata con un misterioso amante Il vecchio faro in disuso che appartiene alla famiglia e che dovrebbe garantirgli un isolamento Comincia ad attirare personaggi bizzarri trasformandosi via via in un refugium pecatorum Dopo l'ex prete arriva anche una ex prostituta, poi il cognato cornuto E infine una stravagante dita di ristrutturazioni chiamata per riparare il tetto del faro La piccola impresa meridionale è nel miracolo che si compie La riparazione di un edificio infatti può diventare l'inizio di una ricostruzione molto più profonda Amici di Fotogrammi a grande richiesta ritorno nelle sale cinematografiche L'appuntamento con una delle saghe più cult degli anni 80, ovvero Ritorno al futuro 2 Lo spettacolo verrà proiettato mercoledì 20 ottobre alle ore 20 e alle ore 22 e 30 E ai primi 100 clienti verrà data in omaggio all'ocadina del film Inoltre vi voglio ricordare che domenica 20 ottobre invece ritorno all'appuntamento con il grande balletto In diretta dal teatro Bolshoi di Mosca, Spartacus Per oggi è tutto, ci vediamo la settimana prossima